La campagna di abbonamenti dell'Aquila segue un po' quello che era il filo dell'anno scorso quindi abbiamo mantenuto sui prezzi dell'intero e i soliti importi mentre però abbiamo fatto un'integrazione di alcune promozioni oltre al mantenimento di quello dello sconto Fidelity per i abbonati della stagione passata abbiamo inserito una nuova formula sulla promozione sui over 65, sulle donne e anche sui ragazzi dai 13 a 18 anni questi avranno un prezzo privilegiato perché in prelazione sarà di 80 euro sulla curva faccio un esempio o di 90 a prezzo intero più su tutti gli altri settori ci sarà una scontistica dedicata in tutto questo abbiamo aggiunto una promozione che ci crediamo molto perché è il nostro nuovo sponsor macro abbiamo inserito uno sconto del 10% per tutti gli abbonati presso lo store della società per l'abbigliamento sportivo Cosa vi aspettate da questa campagna abbonamenti? Noi ci aspettiamo oltre alla campagna abbonamenti tanto entusiasmo che è quello che ci interessa abbiamo voglia e bisogno di avere un supporto importante durante l'anno quindi per noi è sempre importante che i tifosi siano il nostro fianco Grazie a tutti! Grazie!